Buonasera e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Ci ritroviamo anche in questo giovedì 18 ottobre e in questa nuova diretta di Seacasa vi offriamo la compagnia di un atleta davvero incredibile. Pensate che lui è balzato agli onori delle cronache per una peculiarità davvero interessante. Lui compie delle azioni ciclistiche straordinarie a bordo di una graziella. Lo vedete qui a fianco a me armato di tutte le cose che gli permettono di compiere queste imprese di cui andremo a parlare nel corso del nostro pomeriggio insieme. Benvenuto al nostro Franco Cacciatori. Vogliamo sapere tutta la sua storia non prima di aver visto il nostro almanacco per domani. Vediamo cosa ci racconta. Proverbio del giorno. Se di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buona. Franco, è tempo adesso di passare alle nostre ricette. Vediamo oggi la nostra luana in quale macelleria si trova per preparare degli involtini. Non so poi quale sia la tua dieta ma mi sembri anche fin troppo in forma. Dopo ci racconterai i tuoi segreti. Vediamole insieme. Ok, grazie. E anche quest'oggi la nostra ricetta è servita. Allora, Franco, raccontaci come fai ad essere così snello perché non sei solo l'invida degli uomini ma anche per le donne. Segui un regime alimentare particolare o puoi ammettere tranquillamente il nostro amico? è che mangi di tutto. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Comunque, no, io diete particolari non le seguo. Cioè, diciamo che mangio praticamente di tutto. Di tutto. Poi magari potremmo chiedere conferma anche a tua moglie. Anzi, chi è che va a fare la spesa a casa cacciatore? Lei, mia moglie. Lei, non tu in bicicletta quindi. No, no. Puntuali alle 18 e 02 minuti riprendiamo la nostra diretta qui dal Salotino dei Veronesi. Siamo pronti ad aprire le telecamere sul traffico. Vediamo nel circuito urbano se tutto procede regolare. Vediamo vari frame che visualizzano diversi punti della città. Franco, lascio anche a te un commento. Anche so che tutto sommato non è che te ne possa interessare tanto. Tu ti muovi in bicicletta proprio per evitarli questi problemi. Sì, esatto. Io vado sempre via con la bici al lavoro, perciò la macchina la do però meno possibile. Però tu inizialmente dobbiamo andare un po' agli antipodi perché tu, oltre ad avere la macchina, questo lo abbiamo ammesso e vabbè, questo fa parte anche di una routine normale. Tu al lavoro anni fa ci andavi in motorino. Quindi diciamo una vita normale, tra virgolette. Sì, esatto. Una vita normale. E poi cos'è che è successo? Come siamo arrivati a queste imprese ciclistiche in Graziella? E quando diciamo mi hanno rubato questo motorino ho dovuto ricredermi e partire con la bicicletta perché la macchina appunto non la volevo adoperare per andare al lavoro. Anche prima di tutto perché è anche un costo tutti i giorni e dopo, anche perché per il mio benessere fisico volevo cominciare questa vita in bicicletta. Però anche lì non è che è stato tutto liscio liscio. No, no, perché le prime volte era un po'... La prima Graziella, ahimè, non ha fatto una bellissima fine. No, perché me l'hanno... Anche quella è stata rubata. Dopo che è stata restaurata me l'hanno rubata e lì mi è dispiaciuto moltissimo. Però me l'ha sfortuna, diciamo è nata un'altra fortuna che ho trovato in un cassometto una vera Graziella proprio che non ho esitato neanche un attimo quando l'ho vista buttata lì, rotamata lì, con la mia bicicletta normale l'ho trascinata a casa proprio di brutto. La prima Graziella addirittura era stata buttata via da un vicino di casa. Tu prontamente l'hai recuperata, hai anche questa passione per il restauro. Sì, esatto. E guardate che meraviglia, questo è il risultato dell'opera di Franco Cacciatori. Questa è la seconda, esatto. Questa è la seconda, è lei, lei è la vera protagonista delle tutte le imprese che ormai siamo abituati a vedere normalmente sulle nostre croniche locali. Sono su YouTube, sono all'ordine del giorno. Senti, raccontaci un po' delle tue imprese, cominciamo a stilare un po' una lista, giusto per darvi un'idea anche a chi ci segue da casa, a chi ancora non ti conoscesse perché in realtà so che conti numerosissimi fan. Niente, lì praticamente è partito tutto appunto da quando mi si è rotta la macchina che l'idea era prendere una bicicletta da corsa per andare appunto sulle Dolomiti, intraprendere questa nuova vita, queste nuove soddisfazioni con la bicicletta. E lì praticamente invece, ah, lì siamo sullo stedio. Lo stedio perché è uno dei punti, anzi più forti di tutto il tuo curriculum ciclistico. Sì, lì l'ho fatto tre volte lo stedio. Ma cosa vuol dire farlo due o tre volte? Cerchiamo di quantificare anche in chilometri perché non fosse avvezzo? No, tre volte in tre date diverse. Cioè, lo stedio è diciamo una meta ambita da tutti i ciclisti. Cioè, chiunque ciclista vuole avere lo stedio come salita. Lì praticamente l'ho fatto una volta con mia moglie. Dopo l'ho fatto un'altra volta, questa qua, con mia moglie e mio figlio, che l'ho fatta tutta in... Ma anche loro in Graziella? No, loro con la macchina mi facevano da supporto. Ah, ok, no, perché so che ogni tanto tua moglie diventa l'ammiraglia anche del team cacciatore. Eh sì, anche Andrea, mio figlio, sì. E lì praticamente abbiamo fatto tutta in un... Questa qua è stata fatta senza toccare piedi, 27 chilometri, quasi 2000 metri di dislivello, tutto in un tiro. Dopo qua è stata fatta la discesa verso Bormio e dopo è stato fatto il Gavia. Sì, perché tu non è che ti accontenti dello stedio, dici, ma perché non fare un abbinamento con il Gavia? Esatto. Ma anche il mostro, no? Esatto, esattamente. Come mai c'è questo epiteto? Eh, quello lì, il Gavia è una salita... Ma adesso questa qua, quando l'abbiamo fatta qua, l'ho fatta dalla parte di Bormio, Santa Caterina Valfurva. Qua è meno impegnativo, però avendo fatto lo stedio la mattina e pomeriggio il Gavia da qua... Per un totale di? Questo qua è stato 90 chilometri. 90 chilometri, così. Da Prato allo stedio, a Ponte di Legno, è stata 90 chilometri. Questa qua è stata fatta tutta senza toccare, come anche il Gavia. Poi c'è stato Gavia e Mortirolo, questa è un'altra abbinata di quelli incredibili. Vincente, quella lì è proprio stata l'abbinata fatta nel 2010, appunto quando mi si è rotta la macchina. Ho detto a mia moglie, la bici da corsa non la posso più prendere perché nella macchina stassi a un vego, avendola rotta non ci stavo più. Ma quindi tu ce l'hai avuta una bici da corsa normale? No, non ce l'ho mai avuta. Mai avuta, non hai provato l'emozione di essere quantomeno supportato in queste fatiche? No, allora ho detto, c'era stata una macchina piccolina, una OPE, la bici da corsa se la prendo non ci sta più sulla OPE. Allora ho detto a mia moglie, Carla facciamo i quattro passi con la Graziella. Lei mi ha dato del pazzo? No, ho detto, sono andato sulle torricelle a provare, ho capito che con la mia tenacia, la mia forza di volontà, era possibile farli. Mentre certa gente, esempio quando uscivo da Portadescovo lì per andare sulle torricelle, si è fermata della gente lì, della MT, gli ho detto, sto andando sulle torricelle a provare perché voglio andare a fare i quattro passi. Se tu fai i quattro passi con quella lì, ti do la medaia d'oro. La stai aspettando quindi? Sì, quindi la sto aspettando. Stai aspettando quella, stai aspettando, possiamo anche dirlo, uno sponsor, perché ormai è diventata, non il tuo lavoro, perché non è una professione, possiamo dire anche questo, però insomma qualcuno che creda in quello che fai, soprattutto per il valore simbolico. Esatto, perché ho in mente parecchie salite, sono in mente di andare a fare anche parecchie salite, quelle che ha fatto Pantani, il Tour de France, così, l'Alpe d'US, tutte quelle cose lì. A proposito di Pantani poi avremo anche un'anticipazione importante, anche da raccontare a chi ci segue da casa. E volevo dire che quando sono stati fatti i quattro passi, li abbiamo fatti, dopo tre giorni mi sono fatto il primo stelvio, una settimana dopo mi ha seguito il mio figlio, abbiamo fatto il gavia dalla parte di Ponte di Legno, il cosiddetto mostro, pendenza del 18%, 16-18%, durissimo, l'ho fatta tutto in un tiro anche quella lì. Lì ci siamo fermati e lì la roba bellissima è stata quando ho voluto, mi sono intestato di voler andare a fare il mortirolo lo stesso giorno. Lì è stata proprio la copiata più bella, più dura. C'è qualcuno che tenta di dissuaderti, dirti franco, aspetta, però magari facciamo un altro giorno, quella no, quella è davvero troppo. No, i miei familiari, anche quel giorno qua che ho fatto stelvio, questo qua è stato il secondo stelvio, e dopo ho detto adesso andiamo a fare il gavia dalla parte opposta dell'anno scorso, questa è una imprese 2011, e no, no, andiamo a casa. Ma scusa, ma la signora Carla, tua moglie, è quella che sta correndo dietro di te? Sì, mi riforniva da bere, vedi qua sto salendo con un ciclista, con la bicicletta corsa, io con la graziella, lo punto e non lo molo, infatti sulla mia graziella dietro c'è la scritta barcollo ma non mollo. E questo forse è il tuo motto in generale. Senti, a proposito di costi, sai che la nostra seconda parte di se a casa prevede anche di dare un'occhiata, visto anche i pochi centesimi di differenza, al costo dei carburanti. Vediamo lì insieme e poi mi dici quanto ti costa più o meno la manutenzione della tua graziella. Vediamo dove risulta essere più conveniente fare il pieno a Verona e provincia. Per questo giovedì 18 ottobre sia benzina che diesel quota 1,679, 1,629 per il diesel, entrambi ai supermercati Tosani in via Zenate a San Pietro di Legnago. GPL a quota 0,799 a Costantin in via Pisona ad Isola della Scala. Il metano prezzo civetta 0,999 in un distributore indipendente in località Brocciolo a Villa Franca di Verona. Quindi raccontaci Franco, quanto ti costa la tua graziella a mantenerla? La mia graziella? Che cosa che mi costa? Mi costa zero praticamente, mi costerà una camera d'aria, un seforo qualche volta così. Ma non è nessun tipo di macchinario, apparecchio che solitamente usano i ciclisti, i professionisti? No, 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 lì c'è solo, ci vuole solo forza di volontà e sì un po' il fisico diciamo anche un po' di allenamento, ma soprattutto quando metti insieme un po' la forza fisica abbinata alla forza mentale, viene fuori un mix micidiale alle salite. Guarda, vorremmo crederti, questo vorrebbe dire che tutti potremmo essere in grado di fare quello che stai facendo tu, ma lo scopriremo insieme, dobbiamo dare la linea alla regia per qualche minuto e torniamo a farci la nostra chiacchierata con Franco Cacciatori. Bene, buonasera. Se dovesse capitarvi di vedere sfrecciare una graziella a tutta velocità, tranquilli, tutto sotto controllo, lui è Franco Cacciatori, è l'atleta delle imprese incredibili in graziella, proprio l'abbiamo detto, anzi il suo mezzo eletto è qui con noi oggi in studio proprio perché lo volevamo nei suoi panni, non ti volevamo in versione civile, Franco, perché vogliamo vederti per come sei conosciuto, perché ormai sono tantissimi che seguono le tue imprese. Stiamo vedendo delle immagini, un piccolo reportage che racconta la tua salita sullo stelvio. Questo è lo stelvio, il secondo stelvio. Ma senti, ma raccontaci un po' la giornata tipo di una tua impresa ciclistica, sveglia, quali sono le tappe fondamentali, verso che ora si conclude e soprattutto come. Quando facciamo una sveglia tipo a parte bisogna partire già dal giorno prima, il giorno prima di solito io lavoro nei campi, così faccio il giardinaggio, quella notte di solito sono sempre agitatissimo, non dormo neanche, 4 della mattina la sveglia, colazione a casa veloce, e così si parte intorno alle 4 e mezza, così, e si arriva, diciamo, non so, a Prato o lo stelvio, 3 ore circa, così, si arriva alle 7 e mezza, lì si fa un'altra colazione, ci si porta via il termo, con il latte, con il caffè, con le brioche, si fa una seconda colazione e lì dopo si comincia, verso 8 e mezza, 9, si fa il primo attacco allo stelvio, questa qua l'ho fatta, ripeto, tutta in un tiro, dopo quando arriviamo su, che si arriva su dopo, questa qua l'ho fatta in 2 ore e 50 senza toccare, 27 chilometri, praticamente sono andato su circa quasi 10 all'ora, così, senza toccare piede, si arriva su alla cima, lì si e no che mangio mezzo panino, dopo si parte, si va giù verso Bormio, e lì ho fatto una piccola sosta con una, che ne so, questo giorno qua avevo mangiato solo mezza banana. Tu ricordi anche quello? Sì, mi ricordo. Ma se ti hai qualche rito scaramantico durante le tue imprese? No, no, beh, rito scaramantico che mi dà tutta questa forza qua è quella fotografia che ho di Marco Pantani, montata proprio sul manubrio, che questa qua la posso anche prendere, e poi, eccola qua, questa qua, si vede, eccola qua, e con questa qua è quella che mi dà la forza, una forza bestiale appunto per attaccare queste salite e soprattutto anche vado su sempre con la musica, sempre tutte le canzoni dedicate a Marco. Quindi tu eri un grande fan di Pantani? Sì, sì, no, mi piaceva, mi piaceva tanto le sue salite. Che cos'è che ti piaceva di lui in particolare? Eh, mi piaceva, io quando guardo i suoi video su YouTube tutte le volte che lo guardo mi viene una pelle d'oca incredibile. Cioè mi piaceva quando si alzava sui pedali che scaricava tutta la sua potenza sui pedali e anche adesso mi sto emozionando proprio per... è una cosa, quando vedo i suoi video, proprio che mi esalta. Allora quando ascolto le sue canzoni che metto su quelle lì non mi ferma più nessuno. Io so che proprio ultimamente ti è arrivata un'emozione incredibile perché proprio la mamma di Pantani ti ha contattato recentemente per partecipare prossimamente alla gara rappresentativa. Sì, alla gran fondo Pantanissima. Mi ha proprio scritto sul mio profilo di Facebook, mi ha scritto... ha visto il video che ho dedicato a lui, mi ha detto che se li vedesse Marco, ha detto questi video qua, si farebbe tante di quelle risate che... a non finire. Io voglio lanciare un messaggio a Franco, lo voglio come ospite in onore alla Pantanissima 2013. Allora gli ho risposto che vedrò di non mancare e mi ha detto non devi mancare. Allora molto probabilmente andrò a Cesenatico a fare questa nuova impresa. Sarà da quale, no? Se non sbaglio. Sì, ma non vado come ospite d'onore. Se ci vado, vado e la faccio. Ma non a Cesenatico in bicicletta? No, vado a Cesenatico in macchina e lì farò quella corte, i 100 chilometri. Vabbè, lui parla di bruscolini. Ho fatto anche la gran fondo a Vesani, i 100 chilometri, l'ho fatta tutta a scalzo. Ma dov'è che ti alleni? Dov'è che ti si può vedere in giro? Ma guarda, quest'estate, scusa che ero a casa, un po' in cassa integrazione così, saltuariamente, per ovviare a questo problema andavo sulle torricele a scaricare un po' di pensieri e lì riuscivo a scaricarli un po'. Tutte le sere sulle torricele perché avevo sempre a scalzo, perché volevo lanciare la sfida il quarto Stelvio, quest'anno, il primo di settembre, che volevo farla tutta a scalzo, da Prato allo Stelvio, senza toccare piede, però dopo c'erano 40 centimetri di neve e lì saltata. Allora, per compensare, ho fatto la gran fondo a Vesani, scalzo. Quindi, insomma, abbiamo visto anche il ciclismo che è diventato per te un modo anche per rilassarti dai tuoi pensieri. Noi sappiamo che saresti un atleta eccezionale comunque anche se riuscissi, diciamo, ad avere una serenità dal punto di vista lavorativo. Quindi non solo uno sponsor che potrebbe aiutarti a promuovere le tue imprese, ma anche un lavoro per Franco. Franco, insomma, è fuori della tua peculiarità di essere ciclista in Graziella. Che cos'è che sei in grado di fare? Ma io sono in grado di fare un po' tutto, diciamo. Il mio lavoro principale sono un installatore di antifurti satellitari su auto e ho quasi 40 anni di esperienza e il mio lavoro lo so fare tranquillamente, ma ne so fare anche tanti altri di lavoro. Speriamo che magari se a casa diventi proprio un veicolo per uscire a darti anche questa soddisfazione. Senti, io so che ricevi tantissimi complimenti un po' virgolettati, perché alcuni sono estasiati da ciò che riesci a fare, altri rimangono basiti per non dire, insomma, ricadere un po' sul volgare anche perché a volte magari pensare ai professionisti che ci spendono migliaia di euro nelle loro biciclette si sentono un po' spiazzati come non capirli d'altronde. Ah sì, beh, quel giorno che ho fatto il Gavia da Ponte di Legno il cosiddetto mostro sono 17 chilometri quello lì tutto è un tiro e mi sono fermato solo a staccare la Dynamo fuori dalle gallerie perché l'ho fatta anche con la Dynamo accesa e lì praticamente quando sono arrivato su che ho superato anche di un gruppo di ciclisti e ho detto adesso vado a fare il mortirolo c'era uno che non si sa cosa abbia detto quello lì vuole fare il mortirolo adesso qua e là biciclette da 6.000 euro e non altri con le biciclette lui va dappertutto così in dialetto è un pizzichino di video esatto ma certi addirittura quando vado che sentono che si sentono che ci sono dietro a parte cominciano a cambiare quei cambi senti tutti i cambi c'è un impulso la sfida ancora più forte però dopo quando vedono che magari a volte ne supero parecchia di gente insomma tenetevi in contatto con Franco perché le sue imprese non terminano qui anzi siamo curiosi di vedere quale sarà la tua prossima sfida dobbiamo assolutamente prima di dare la linea al collega di A Ruota Libera oggi è ciclismo a 360 gradi vediamo cosa ci propone la nostra agenda del giorno per domani pochissimi istanti non so quale sia il saluto fra ciclisti Franco magari un flash lo puoi lanciare tu io ne approfitto per salutare tutti i nostri telespettatori e ci rivediamo domani innanzitutto volevo dire un grazie a mia moglie e mio figlio che mi hanno sempre supportato in tutte queste imprese che se non fosse stato per loro io da solo magari non riuscivo a fare tutto questo e dopo volevo lanciare un altro messaggio a mia moglie che vi ho già detto che sto restaurando una seconda graziella che si tenga in forma perché attenzione la famiglia cacciatori si allarga sarà un'impresa familiare l'ho già capito ne ho anche delle altre se vorrà anche Andrea e mia figlia Francesca se vorranno anche loro famiglia cacciatori faremo lo stevio con le grazielle va bene questa è la sfida di Franco grazie ancora a tutti i nostri telespettatori buonasera mi ha chéde grazie a tutti i nostri spettatori